Buongiorno a tutti, sono Edi Maria Neri, Assessore del Movimento Politico Verona Pulita nella giunta del Sindaco Federico Sboarina, insediatesi nel luglio scorso a Palazzo Barbieri. Ad oggi sono trascorsi 100 giorni ed io come Assessore con una pluralità di deleghe, anticorruzione, trasparenza, semplificazione, affari legali, patrimonio ed emagno e programmazione approvvigionamente, sono ad indicarvi a rendere noti conto di quanto è stato fino ad oggi fatto. Per quanto riguarda l'anticorruzione è stato istituito apposito comitato per la legalità, la trasparenza e la prevenzione della corruzione, composto da persone esterne all'amministrazione comunale ed anche all'apparato politico, persone di alta e comprovata professionalità e stima che presteranno la loro opera a titolo completamente gratuito. La giunta al tesi deliberato l'adesione ad avviso pubblico. Avviso pubblico è un'associazione antimata la quale unisce in rete gli enti locali di tutta Italia che perseguono i principi di legalità e di democrazia. La giunta al tesi deliberato l'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si tratta di un protocollo sottoscritto a Venezia nel settembre 2015 tra le prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'UPI e l'Anci Veneto. Per quanto concerne la delega alla trasparenza il Consiglio Comunale ha deliberato l'istituzione di una commissione consigliare per la trasparenza e il controllo, si tratta della settima. La trasparenza viene ad avere veste propria, mentre nelle precedenti amministrazioni era relegata nella prima commissione consigliare. La giunta comunale al tesi deliberato recentemente il monitoraggio degli incarichi di consulenze e collaborazione professionale affidati negli ultimi cinque anni da tutti i settori della pubblica amministrazione, quindi si va dall'economato ai lavori pubblici, all'istruzione, al fine appunto di rendicontare e di valutare i rapporti ancora in essere oppure quello che è stato fatto in passato. La giunta al tesi deliberato l'istituzione di un'agenda trasparente dove appunto gli amministratori pubblici e il sindaco annoteranno e renderanno pubblici le persone, le società, i punti di interesse che giorno per giorno incontrano a Palazzo Barbieri. Per quanto riguarda il patrimonio e il demonio è stata fatta una ricognizione puntualissima del patrimonio comunale con sopralluoghi presso immobili di pregio o anche non di pregio, presso i forti austriaci e presso anche parchi della cinta magistrale presenti sul territorio comunale. Sempre in materia patrimoniale e concessoria questo assessore ha incontrato i rappresentanti di oltre 60 associazioni che godono, vorrebbero godere di spazi locali a loro uso. Viene ponderati elementi di merito per un abbattimento dei canoni di locazione passiva per il comune. Per quanto invece concerne i canoni di concessione, quelli che sono attivi per il comune invece, vengono essi valutati caso per caso senza appunto ricorrere ad abbattimenti massimi per tutte le associazioni o le categorie di persone che li richiedono. Per quanto riguarda gli affari legali non sono stati attribuiti, conferiti incarichi a consulenti esterni e questo in virtù di ottimizzare i risparmi, ma soprattutto in adeguamento delle ultime delibere ANAC che prescrivono l'affidamento di incarichi a professionisti esterni soltanto in ipotesi limitatissime e residuali. Per quanto poi concerne la delega programmazione e approvvigionamenti sono state verificate e sino ad oggi tutte le procedure con esame di 79 determine per acquistis. Vi ringrazio.